I'm looking for a cover, this is fucking awesome Conejos in faccia No Non lo sappiamo Allora La seconda Questo qui Oh il volume Te lo comando uguale La seconda Qual è? Qual è che devo prendere? Sì questa qui Qual è? Qual è? Sì questo Qual è? Qual è? Allora questo qui è Super Cops 1 Guardate che bei ricordi Innanzitutto non ti vedo Come cacchio hai fatto? Conejos a tutti ragazzi Yahoo Oh io 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 Aspetta lascia mi scendere Eh vieni vieni Aspetta lo provare Va Oh quanto Quanto mi piace le Cops Mi ero scordato il suo Ma hai messo il Mi fa che è un po' Sto cecchino Eh no Anzi mi ricordo i miei tempi I miei tempi in cui correvenuto per le strade con ID Sì ma non devi dirlo Ma loro pensano che Oh 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 ID Petru di correltà anche Le caprette ti fanno ciao Ehi dove sei? Schifoso? Dimmi Non starete Dove ti trovi? Tentano a cross the map Scappare Ma come è un po' Ma come è un po' C'è Black Ops 1 C'è ma che differenza quello No Ma quello Oh E di là Tuo madre di là Mi ricordo che quando c'era le partite Con i miei amici Tipo a 300 uccisioni Non finivamo più E poi correva tenuti con ID Mamma ma che roba son doppato Mamma mi le può vedere Lui proprio non è doppato Mi fa cambiare quest'arma devo dire A me piace un botto Mi manca tantissimo Poi vedi Naktan zombie guarda come guarda Sì ma non devi usare questo Che sono una mitra Ah sì Cioè non è un mitra un cecchino però fa schifo Cioè spara tanti colpe a volte Ma porca E' forte E' ricarica veloce No dai Petro No davvero Sì 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 Anche perché sono in serie Non voglio rovinare Ah sì se la rovino io la serie Come te lo fai Altro Molto veloce sto cerchino Altro cioè E' ripiva un SMU2 Anche perché SMU2 C'è passato poco tempo Qui invece Va va come era fatta No No Mirarti la Spararti una pallottola in faccia Che vuole No Eris il mio mirino Eris sei sul mio diario Di Heidi Come cavolo fai questi cecchini Oh è bellissimo Ma sono stralenti a fare qui Con caricandolo No in verità sono veloce Sì sì Oh Petro Oh yeah C'è stato il mio E' un insulto? No Aspetta No No Non ti ho visto E' sparato a caso Non pensavo fossi di Baby please No demon Oh guardalo Sì però non è divertente Cos'è? Sono divertente Come è divertente Come è divertente Come è divertente aspetta no guarda no 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 non posso certi ma è la macchina mortale eh si però questa ha 500 colpi l'altra? due o trecento mamma che bei ricordi oh ma non stiamo commentando non stiamo dicendo niente scusa allora dunque questo che è il secondo episodio allora black ops è stato un grande videogioco in verità è stato il mio primo call of duty poi vabbè il come si chiama cioè mv2 l'ho preso poi ho preso mv3 oh tanta tanta roba ragazzi poi ho preso mv3 black ops no mv3 si e dopo ho detto ciao proviamo a prendere mv2 così faccio un nucleare e l'ho chiamato infatti tipo al ventesimo livello e e tipo però vabbè dopo poco tempo è uscito subito black ops 2 perchè avendo l'ho preso usato non mi diverto devo dire no il vostro spinto un po devo così bene oh 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 l'ho non sei mica a casa tua porta rispetto volevo lanciarti un c4 tossimo non ho scopo non ho scopo sto cacchio, hai capito? non ci credo ti ho fermato un attimo un attimo il mio obiettivo è sempre di prendere la bomba atomica ma non ci arrivo mai è una bomba atomica? si e non ci arrivo mai è quella che esplode a fine? no aspetta un attimo dai ok mi hai spercato ma vaffa ma sono giuro probabilmente prendimi no sono su guarda il doppio arcobaleno come quello che c'è stato ieri ma sei un idiota perché li hai messi a su? guarda si ho capito ma perché li hai messi a su? dovete sapere che ieri qui ieri qui ha piovuto e c'è stato un doppio arcobaleno vaffanbani mi fai provare un attimo un trickshot? no dai vuoi solo provare? eh provalo io ti ho messo come provare si ma solo una volta che ti piazzi sotto dove sei? qua mettiti un attimo qui solo un secondo qua? si voglio solo provare perché qui non l'ho mai fatto dai io spero a caso eh ma ho capito ti ho detto un attimo cosa è sta roba? ah provi non è divertente e vedo che termina qui il secondo episodio di ora vado in bagno a fare la cacca guardate il trickshot cioè non è un trickshot cambio d'arma 360 e ho pure toccato terra fai un po' schifo parla lui vabbè le farei occhi chiusi queste cose vita 30 a 8 vabbè 8 a 30 cosa vuoi? stai zitto vi vediamo no 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 oh spaventano vabbè ci vediamo al prossimo episodio deve essere un finto schiaffo con mv3 ciao a tutti vi vediamo al prossimo episodio